Con Realme GT Neo 3 l'azienda riparte da quanto di buono visto lo scorso anno cercando di andare a migliorare tutti quegli aspetti che sono rimasti un pochino più indietro chiaramente nell'ottica di contenimento dei prezzi ma dando a questo telefono ancor più un'identità e soprattutto portando alcune funzionalità veramente interessanti che sapranno sicuramente stuzzicare la voglia degli acquirenti. Sarà riuscita veramente l'azienda a proporre il telefono perfetto per attaccare la fascia di flagship killer? Lo scopriremo subito nella nostra recensione completa. Parola d'ordine, concretezza. Realme ha insomma deciso di puntare in alto con un dispositivo capace di offrire delle prestazioni all'avanguardia sotto tutti gli aspetti dalla produttività al gaming, al multitasking più spinto senza alcun tipo di problema. Tante novità sono arrivate su questo dispositivo una su tutte legata alla ricarica che vedremo successivamente ma anche sotto il profilo fotografico abbiamo visto tanti tanti miglioramenti per uno smartphone che risulta decisamente più completo rispetto a quello dello scorso anno. Sul fronte del design l'azienda cambia poco proponendo un dispositivo abbastanza standard nelle sue forme ma comunque è in grado di farsi apprezzare senza alcun dubbio per una grande maneggevolezza, la poca scivolosità e soprattutto un peso che è stato ridotto sensibilmente a 189 grammi. Un peso insomma che ci consente di utilizzare lo smartphone anche per lunghi periodi di tempo senza insomma quella classica situazione di stanchezza della mano tipica degli smartphone un pochino più pesanti. E chi utilizza un iPhone 13 Pro Max tutto il giorno fidatevi che lo sa molto molto bene. L'azienda ha insomma preferito non stravolgere eccessivamente il proprio dispositivo andando tuttavia a migliorare sensibilmente alcuni aspetti come quello legato alla back cover una back cover che risulta rispetto allo scorso anno decisamente meno scivolosa e soprattutto trattiene molte meno ditate. Utilizzare questo dispositivo insomma senza una cover sarà assolutamente piacevole. Tra i colorazioni proposte da Realme quest'anno ritroviamo una sempre anonima Asphalt Black che continua a non piacermi per nulla ma ritroviamo anche due colorazioni Sprint White e Nitro Blue quest'ultima la colorazione che state vedendo decisamente molto gradevole con queste due bande posteriori che ricordano chiaramente le bande tipiche delle auto sportive come appunto sinonimo di prestazioni che questo dispositivo vuole mettere in campo al servizio degli utenti. Decisamente notevole anche quest'anno il display utilizzato dall'azienda da un display AMOLED Full HD Plus da 6,7 pollici decisamente ben ottimizzato con un rapporto screen to body del 94,2%. Un dispositivo insomma decisamente ben ottimizzato che limita al minimo le cornici e vi offre veramente un display appagante ed immersivo in tutte le situazioni. davvero bellissimi insomma i contrasti e i colori di questo display grazie alla copertura del 100% della gamma P3 una profondità a colore di 10 bit e una calibrazione che l'azienda ha definito professionale per poter consentire agli utilizzatori di fruire della più precisa calibrazione possibile. Molto bene anche la leggibilità sotto la luce diretta del sole mentre in un futuro aggiornamento andrei a rivedere qualcosina sotto il profilo della gestione della luminosità automatica che non si è proprio sempre sempre rivelata precisissima al 100%. Stiamo tuttavia parlando di piccolezze perché il display di questo Realme GT Neo 3 è un display veramente notevole sia sotto il profilo della fruizione dei contenuti multimediali che sotto il profilo del gaming grazie alla frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz che può essere ovviamente come sempre gestita in maniera dinamica oppure forzata con chiaramente un conseguente impatto sull'autonomia. Sotto il profilo delle prestazioni però arriva il vero stacco netto con il passato Realme GT Neo 3 passa infatti da piattaforma Qualcomm a piattaforma Mediatek ma prima che iniziate a storcere il naso stiamo parlando di Mediatek Dimensity 8100 cuore pulsante veramente ad alte prestazioni che ci ha consentito di affrontare veramente qualunque tipologia di task anche con i giochi più spinti come ad esempio il recente Diablo Immortal da poco uscito senza veramente alcun tipo di problema. Sotto il profilo delle prestazioni chiaramente quando si sale salgono anche le temperature ma devo dire che l'azienda sotto questo aspetto è riuscita a migliorare rispetto allo scorso anno il suo raffreddamento a camera di vapore. Un raffreddamento insomma che vi consente di giocare anche per lunghi periodi di tempo senza avvertire eccessivo calore. RAM in due configurazioni 812 nel nostro caso abbiamo provato la versione con 12 gigabyte di RAM che consente grazie al supporto LPDDR5 di avere sostanzialmente un passaggio da un'applicazione all'altra e una gestione di più processi multitasking decisamente molto molto fluida. Il nuovo chip Mediatek significa inoltre anche supporto allo storage UFS 3.1 quindi sotto questo profilo uno storage veramente molto molto veloce sia in lettura che in scrittura. Ma arriviamo ora al comparto fotografico, un comparto ormai sempre più importante vista l'esplosione di social, soprattutto social, video e fotografici un comparto sempre più cruciale che l'azienda ha deciso di rivedere a rialzo rispetto allo scorso anno dove c'era qualche compromesso a mio avviso di troppo. GT Neo 3 sfoggia un modulo fotografico a tre sensori tra i quali spicca il sensore Sony IMX766, il modulo primario che ritroviamo anche su Xiaomi 12 e Find X5. Rispetto al predecessore si guadagna quindi anche la stabilizzazione ottica che era risultata una mancanza piuttosto importante del modello precedente. Oltre a questo sensore primario da 50 megapixel con apertura f1.88 ritroviamo anche una lente ultra wide da 8 megapixel 119 gradi con apertura f2.25 e una lente macro da 2 megapixel con apertura f2.4. Il sensore IMX766 ormai insomma ragazzi abbiamo imparato a conoscerlo molto bene e anche su questo GT Neo 3 significa scatti di alta qualità. Tanto dettaglio, bei contrasti, colori molto fedeli per un risultato finale sicuramente appagante sotto moltissimi aspetti. Logicamente come sempre potremo andare a intervenire in maniera automatica con l'intelligenza artificiale per andare a migliorare il nostro scatto. Tuttavia ragazzi sotto questo aspetto ho preferito come sempre non utilizzarla per poi andare ad agire in post produzione perché la tendenza talvolta è come sempre quella di andare un pelino ad agire troppo sulla saturazione rendendo i colori un pochettino meno naturali. Decisamente migliorata anche la modalità note che quest'anno riesce visibilmente a catturare molto più dettaglio rispetto allo scorso anno ma riesce soprattutto ad abbattere sensibilmente i tempi di scatto di circa il 74%. Un risultato veramente interessante che vi consente di schiarire una foto scattata in un ambiente quasi completamente all'oscuro in veramente pochissimi secondi e con un recupero dei dettagli sensibilmente importante. Percettibili miglioramenti anche per quanto riguarda la lente ultra wide, una lente che quest'anno è un pochino più luminosa e che riesce quindi a catturare un livello di dettaglio maggiore. Logicamente nel momento in cui la luminosità va a calare sarà quasi indispensabile la modalità notte per non ritrovarvi chiaramente uno scatto con tanto rumore e un livello di dettaglio assolutamente insoddisfacente. Continua a non convincermi la lente macro. Una lente macro che lo scorso anno non mi era piaciuta e quest'anno sì è più luminosa ma comunque non sempre riesce a catturare un livello di dettaglio soddisfacente anche rispettando quelle che sono le specifiche della modalità di scatto macro di Realme, ovvero con distanza a 4 cm. Talvolta infatti la messa a fuoco non è sempre precisa e non è quindi sempre possibile catturare un buon livello di dettaglio se non in condizioni assolutamente favorevoli. Con l'arrivo della stabilizzazione ottica ritroviamo importanti miglioramenti anche nel comparto video, un comparto decisamente claudicante nella passata generazione. Realme GT Neo 3 riesce a catturare video fino a 4k a 60 fps che scendono tuttavia a 1080p e 30 fps con la modalità intelligenza artificiale attiva. Insomma se volete catturare video con una buona risoluzione questa modalità non dovete assolutamente toccarla. Tuttavia se vorrete fare un video in condizioni di scarsa luminosità sappiate che questa modalità dovrete attivarla necessariamente per poter avere un livello di dettaglio sufficiente soprattutto per poter ridurre sensibilmente il rumore dal vostro video. Questo compromesso insomma è assolutamente evidente ma nel complesso ritroviamo un comparto video che ha fatto importanti passi in avanti rispetto allo scorso anno. Maluccio invece la fotocamera frontale 1080p 30 fps una fotocamera insomma che poco si sposa con i contenuti video moderni che ritroviamo ormai su TikTok e Instagram Rear. Quindi insomma se da questo punto di vista state cercando uno smartphone anche per divertirvi con questi social network potreste non ritrovare in RealMigity Neo 3 il vostro perfetto compagno di avventure. Ma arriviamo a quella che probabilmente è la vera bomba di questo smartphone ovvero la ricarica. RealMigity Neo 3 è infatti il primo device sul mercato a integrare una ricarica pensate da ben 150 watt una ricarica che vi consente sostanzialmente in 5 minuti di raggiungere il 50% e in 10-12 minuti di arrivare al 100%. Se siete a secco vi basterà insomma veramente il tempo di un caffè per ritrovare il vostro dispositivo con una carica al 50% e pronto magari per affrontare una serata. Va detto tuttavia ragazzi che i 4500 mAh della batteria di questo dispositivo vi consentiranno con un uso anche abbastanza intenso di coprire una giornata stress senza eccessivi patemi. Tuttavia potrete in fase di acquisto scegliere anche una seconda variante una variante che va a portare la ricarica da 150 watt a 80 watt il che significa da 0 a 50 in circa 12 minuti ma che va a potenziare di 500 mAh la batteria in dotazione. Modulo dati 5G, wifi 6, audio stereo con certificazione Dolby Atmos e iRes Audio e connettore USB-C sono le specifiche che vanno a comporre questo pacchetto chiamato Realme GT Neo 3. Un dispositivo devo dire veramente molto interessante che migliora sensibilmente rispetto alla passata generazione con ancora qualche inevitabile compromesso ma che tuttavia nel complesso risulta decisamente migliorato e in grado senza dubbio di farsi apprezzare da buona parte dei consumatori. Tuttavia tutti questi miglioramenti hanno ovviamente un risvolto negativo che va inevitabilmente ad impattare sul prezzo di vendita. Realme GT Neo 3 arriva sul mercato in due varianti 8 128 gigabyte con ricarica massima a 80 watt e la variante 12 256 con ricarica a 150 watt. Queste due varianti vengono proposte in offerta lancio come ormai da prassi con uno sconto di 50 euro per la variante da 828 si parte infatti da 599 euro di listino scontato a 549 euro e per la variante con ricarica 150 watt passiamo da un prezzo di listino di 699 euro ad un prezzo scontato di 649 euro. Va tuttavia rimarcato che all'interno della scatola di vendita ritroverete l'alimentatore pertanto contrariamente alla scelta che è stata fatta da tanti altri produttori non dovrete acquistare l'alimentatore a parte. Su questi prezzi c'è da fare assolutamente tante valutazioni ci sarà chiaramente da capire quali saranno i prezzi nelle prossime settimane sui vari store come Amazon come eBay se l'azienda dovesse decidere di puntare poi successivamente sul prezzo di listino allora lì secondo me potrebbero arrivare problemi problemi dettati non solo chiaramente dalla forbita concorrenza ma anche dalla stessa line up di Realme che potrebbe secondo me diventare un po' troppo caotica e potrebbe far percepire la ricarica da 150 watt magari come un plus di quelli sì mi piace ma non troppo mi serve ma non troppo e allora magari andiamo a risparmiare qualcosa e prendiamo il modello da 80 watt. Vedremo insomma che cosa l'azienda deciderà di fare sotto il profilo dei prezzi. Da Luca Ansevini e da Techetutto io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!